Scoperto un giro di scommesse clandestine all'ipodromo La Favorita di Palermo. La Guardia di Finanza ha sgominato un'organizzazione che in due anni ha messo a frutto oltre mezzo milione di euro di guadagni. 18 le persone indagate dalla procura chiamate a rispondere di reati puniti con pene che vanno dai tre mesi del resto fino ai sette anni di reclusione. In particolare le accuse sono di associazione per delinquere contestata a sette persone e di organizzazione di scommesse abusive su competizioni sportive, nel caso di otto indagati, per la partecipazione alle scommesse. L'indagine ha avuto origine nel 2010, anche sulla base di analisi statistiche curate dagli enti abilitati alla programmazione e all'organizzazione delle corse dei cavalli, che segnalavano un significativo decremento delle puntate raccolte attraverso il circuito ufficiale dell'ipodromo. In alcuni mesi il ribasso era pari al 40% in meno della media registrata negli anni precedenti. Le fiamme gialle hanno predisposto appostamente intercettazioni telefoniche e ambientali con diverse telecamere nascoste all'interno dell'ipodromo palermitano. Pochi minuti prima dell'inizio delle corse, numerosi scommettitori abituali, invece di effettuare le puntate negli sportelli abilitati, si rivolgevano a decine di soggetti, che raccoglievano i contanti. Durante le pause tra una corsa e l'altra, gli organizzatori si riunivano fra loro per dividersi i proventi. L'organizzazione raccoglieva complessivamente un centinaio di scommesse al giorno. L'attività clandestina ha anche condizionato in modo indiretto i pronostici delle corse.